No, sono d'accordissimo con quello che ha detto questa bellissima Marwa, come si chiama. Tutto quello che ha detto... Il uomo con la barba bianca, la bellissima donna, il turbante. E lo sono, non vedo niente, da dove sono? Ci inviti a casa sua, ci inviti a casa sua. Da dove sono? Non vedo... Smetta Raimo, smetti Raimo. Raimo smetti di provocare. Avvocato proceda, non si preoccupi, lui è un provocatore. Non sono un provocatore, chiedo una dignità di un nome. Io da qua non vedo un nome. Non basta leggere, basta leggere. Si chiama Marwa, basta, basta. Prego, avvocato, avvocato, vada, vada.